nel video precedente o si il figlio per questo nuovo video qui mirko erika siamo di nuovo tornati sulla sfida del lunedì dopo tanto tempo sono in circa due settimane che arrivavamo comunque siamo su call of duty ghost tra poco dopo 11 sfide lunedì che non facevamo torna con lo studio di costa anche se ora inizieremo il rotto dove tutto è iniziato non sto più su advanced warfare lasciato un like se volete il rotto commander e comunque la sfida si svolgerà più o meno come si è svolta la prima sfida anche successamente ora generiamo una classe casuale e poi alla fine di faremo partire tutti contro tutti e alla fine di tutte le partite faremo uccisioni meno morti e chi ha il rateo più alto arriva primo e felice ok inizierò io vado a generare ti prego un'arma di merda che fa il cecchino col silenziatore cecchino silenziatore instagram non l'ho mai vista in vita mia bonus di merda e serie di merda e serie di merda ok andiamoci dai ti prego che ovviamente non dovresti appena iniziare cioè è già iniziato perchè se non è sposato ok come on guys ti prego ti prego ti prego come on come on come on come on non ti fai ammazzare scappa 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 ce n'è dietro ce n'è dietro ragazza cazzo te un coglione cazzo ti riporto ok ok mirco non va bene non lo so con me no Ilam di altri cittadino non più le ammira per terra vabbè non si possono fredda capire ciò ciò sto sei e l'altra assurda dici solo vabbè non si possono non cacchi capo youtube roma ok ok va bene ho 1 una maria grazie una maria la lerno si sta a 0 Mirko preferisco che vinci tu te lo giuro preferisco che vinci tu sai che batosta mi gagno un muoferre allusinante bravo un veterano che il decode che perde è una sfida ora acciuga stava camminando non c'è dopo non c'è dopo il posto è 5 di fila ammazzalo 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 nooo uccidio no la granata si la gente che usa le granate questo giochino giocano ammazzalo pure oh girate nooo ok ok esatto è fatta la supposta ventola del computer non c'è allora c'è uno qua su un culo a sangue oh oh attento lo sterco lo sterco di rapida oh scarsi mario c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua c'è uno 12 6 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 sicura così vincere tra volta guarda che me lo ricorda questa a questa 6 6 12 8 4 3 3 5 6 3 4 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 11 11 12 11 13 15 15 12 con un'altra c'è sul costo sì che ti ammazza ma guardate sempre 3 vai giang sta qua che ti sparava un po' lì aglio ma sì eeeh marletti eh ah ti ho ucciso dove cazzo era il camion sempre 3 vai continuo a 3 pure 2 qua qua che pallo questo cosa ti prendo i cia che cia che cia che cia si vabbè oddio mi sta rifarciando in piedi oddio il lanciapuffi non c'è non lo so qualcos'altro chi sei stupido quello lo metto pure io bello dai via quello la è sempre che ti fa la stessa cosa potevo trolla però qua c'è una sfida da non c'è e ti do il culo cazzo siii jug giug ma gli ha fatto due volte in te eh quello che mi ha dato fatto sta la madonna poi c'ha pure stato eh va beh è una vera le piazzi ibiote sta due sta due vabbè sei pure terzo ma poi manco mi piace se uno vuoi ma che bella cosa ragazzo stai qua ma che posto zero che fa zero siiii meno uno meno uno dai meno uno dai meno uno meno uno meno uno meno uno siiii come on come on chi gio adesso che vuoi che isual ma magari cash se lo coltello guarda che c***o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo prima secondaria come si fanno avanti ahahah amici dove siete amici aiuto aiuto è catastrofico raga perchè è così catastrofico eccolo nooo quanto ho fatto io almeno uno si oh ciao mamma mia sei alice aiuto 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 come si gioca sei a zero vuoi vinti no 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 non è di spassi dai dai pure questi qui dove stanno aiuto oh ma chi è sto malato sei un piatto i tito basta che superi amici eh vabbè ma sei proprio uno stronzo e vabbè ma da dove stanno davanti te davanti te davanti te ci arrivi ok spana oh che figo l'ho mazzato uno che bello fuori in corsa fuori in corsa e ci sa pure il primo aia o se cazzo gira aaaah 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 gira 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 aaaah aaaah gira 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 aria usavo la carta qualcosa di amnes vedi i capi rossi no 24 mi tocca a far meno di te che cosa l'rpg è peggio è l'arma peggiole oppure il cottilino non è peggio non è peggio del tuo ma io sono scherzo da meglio così che cosa è questo? rileva i nemici dei baracchi cioè sta a vincere lui con meno due dopo meno uno però al tuo anno oh oh rubus primo sangue ecco come passerà la vostra ricca sticazio guarda che culo aspetta che cazzo l'avevi visto? nooo come dove? mi sto blocchando magari ti ammazzano muori si 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 meno uno e andiamo fabio qui si vince si vince guarda che schifo guarda che schifo nooo ai cani no si cazzo guarda quel malore siiii siiii cazzo guarda sto demente mezz'ora ci ha messo guarda che cazzo guarda che cazzo guarda che culo dai oh madonna non ci credo no no fratello guarda sto malare siiii non spara nooo perchè i nemici rincoglioni di non ce li avevo pure io ma che è vai tu madre è una mignota godo godo dai 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 così meno due andiamo fabio siamo a berlino per credere in un suono cazzo ti uccide nooo siiii ma che mancano due uccisioni dai dai queste due uccisioni pezzo di merda si cazzo si è vinta è vinta è vinta stia berlino cazzo godo 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 siiii come mi spiace che cazzo come cazzo come cazzo cazzo come cazzo come la mamma ha fatto due ok ragazzi le posizioni state decise ci becchiamo sulle penitenze in giuste penitenze ok allora riccardo terrioto secondo si prenderà un pan di stelle con un zuppato pieno zeppo di olio cazzo cazzo oh 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 ma mica è solo questo eh siiii no 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 è un cucchiaio ma devo bene mettere in un bicchiere e poi inzupparlo siiii ciao inzupparlo è troppo me lo devi mettere dietro ma davanti basta te merde dai ma è troppo olio ma l'olio fa vomitare e magari è pure buono oh 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 basta erano due eh tranquillo no 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 dietro il dietro no che il dietro hai detto il dietro no hai detto dietro prendi tu non me l'hai fatto mettere cioè che vuol dire cazzo eh ne devo mettere di più infatti cioè che vuol dire decidi te quanto ne devo mettere due cucchiai che vuol dire è buono così non si sente ma che vuoi avere hai dato aspetta posa posa un attimo posa un attimo posa un attimo la prima sfida del video la prima sfida del video visto che siamo in tema visto che siamo in tema dobbiamo prendere dei provvedimenti fuori dal canale provvedimenti saranno... ok no no così provvedimenti saranno... oh no è troppo metti un altro cucchiaio è che se non... tutto in bocca tutto in bocca e ce stai tanto vieni e dopo prendi quello tutto in bocca comunque è buono tiè oh vada decca è buono dai si almeno quello è buono per dire l'oliva ok ora passiamo quella di Mirko per Dio ora passiamo la mia penitenza ah ora ecco la penitenza di Mirko sarà latte, limone e aranciata che buono te ne metto poco però dico è buono è buono io dico buono buono vada così poco a Federico piace bianco un po' di aranciata giusto per alleviare no che schifo ma è buono per me è buono arancio del latte è buono per me è buono è una cosa siciliana ma con il limone si sfasa oddio schizza oh schizza oh aspetta ma è finita come schizza bene oh mischia fede oh ma io già l'ho sentito io sta cosa già l'ho fatto non già l'ho vista latte il limone ha fatto da qualcuno latte il limone ha fatto di provare no con l'aranciata dai voglio vedere le situazioni com'è no è buono è ambidestro è buona a vedere non sei più capace di fare le cose che succede? beh è buono il cazzo beh non è malissimo dai se vuoi bere devi fare di più l'ho detto fa abbastanza schifo però non proprio tanto dai è bevibile troppe finito però era buono se questo vi sia piaciuto mi raccontaci da un bel mi piace un gamento iscrivetevi al canale che potete trovare in descrizione non è vero chiamateci su skype chiamatevi a questo numero 377 questo vi è tutto bella ragazza no dai pebbo questo non è